amici di calcio napoli 24 siamo all'esterno dello stadio ferraris a tre ore di fatto dalla gara genoa napoli come vedete sta diluviando pesantemente le condizioni del meteo sono davvero pessime al momento questo è la zona del campo la zona dell'ostana dove entreranno i tifosi del napoli faranno il suo preso il traggio qui in questo è un bagno e dopo queste tifosi dove a fianco si vedono i tifosi e la banca che ovviamente oggi non ci sono attraverso la curva tutti li farà il terreno dei tifosi che si riparano costruppo sta giochiando pesantemente e speriamo che la metà nei prossimi minuti ma al momento di continuazione è questa e non è proprio il posto diciamo